ciao oggi vi parlo di questo mascara della essence che mi ha incuriosito soprattutto per la confezione allora questo è il Lush Go Wild è un mascara a volume che ha questo tubetto che sembra il tubetto del dentifricio quindi di quelli morbidi e mi ha incuriosito molto la quantità è un 7 ml e ha un paio di sei mesi quindi dura sei mesi dall'apertura ma ma ve lo dico subito sì allora intanto dimenticavo ho fatto il video di lui all'azione quindi Grazie a tutti Allora cosa dire prima cosa vi faccio vedere lo scovolino che se riesco a pulirlo ecco è fatto da tante palline che comunque sia ecco forse si vede un pochino anche da qui e sul tappino c'è il disegno è un mascara che effettivamente prende bene le ciglia è bello volumizzante è fantastico e mi è piaciuto tanto mi è piaciuto tanto perché è allunga e intanto da volume è un nero che è fantastico molto molto nero è molto intenso è due passate si vede subito la differenza apre le ciglia non fa grumi non si sbriciola dura lungo anche se non è waterproof quindi mi è piaciuto tanto unica cosa forse il fatto di questa confezione che dopo un paio di mesi dice 6 ma al fine penso dopo due mesi più o meno è diventato pastosissimo quindi mi dispiace perché dentro spremendolo come se fosse un etifriccio dentro si vede che così forse si vede adesso faccio un poccio ecco che c'è ancora tantissimo prodotto ma il fatto è che è pastoso è molto aspettate che faccio un poccio no è talmente pastoso che è un blocco unico e va a no non va più bene assolutamente è orrendo e peccato peccato perché è un prodotto che mi piace tantissimo diciamo che visto il prezzo se mi dura due mesi e ha un ed è valido per due mesi va bene unica cosa è questa perché è un mascara molto bello molto valido molto intenso e mi piace tanto però mi dura poco però meglio di quei mascara più costosi che si seccano lo diventa pastoso con la formula oppure la confezione fatemi sapere se avete provato e come si trovate io spesso sta utile e ve lo consiglio perché è carino ve lo consiglio da provare se volete siete curiosi di questa confezionina a tubetto di dentifricio e mettetemi un like al video se vi sono stata utile e iscrivetevi al canale così non perdete le prossime accensioni alla prossima ciao ciao